Ciao! Oddio, tra parentesi sono un po' sconcio in questo momento. Ciao a tutti! Scusatemi per i capelli, ma sto facendo la tinta. Quindi perdonate i capelli, anzi farò tipo la periscope così, così almeno un po' più decente come cosa. Ciao! Lo so, ieri non ho fatto la periscope, stasera invece ce l'ho fatta. Ciao a tutti! Ciao, cosa fate di bello? Ditemi! Non siete ancora a letto? Di solito voi andate a letto presto e siete delle brave bambine. Ciao a tutti! Ciao Giussi, ciao Benedetta, ciao Irene, ciao Marti, ciao a tutti. Scusate veramente, sto facendo la tinta ai capelli, quindi sarò in uno stato orribile. Ciao! Ciao Marco, ciao! Allora, dai, raccontatemi cosa avete fatto di bello. Ieri non ci siamo nemmeno sentiti, non abbiamo fatto nemmeno la periscope. Ciao! Che carini che siete. Mi ho fatto un botto di compagnia tantissimo, tipo... Domani torno a Milano. Ciao Lara! Hai incontrato Alberico? Dove l'hai incontrata? A Bari? Oggi divano e Twitter, grande. Mi piace tantissimo e anche oggi ho fatto veramente poco. Sono uscita solo una volta e basta, quindi insomma ho fatto un po' poca roba. Aiuto. Grazie, grazie, ormai praticamente la pubblicità di Max Factor l'hanno vista tutti. Anche perché ho visto che è su un sacco di canali, cioè è su Sky, è su Cielo, è su MTV, è sulla 7. È da un sacco di parti, quindi mi vedrete ovunque praticamente. Ciao Alessandria! Alessandria, sì. Aiuto, non leggo. Ciao, ciao a tutti! Ciao Silvia! Meno tre vedi Michele. Dov'è tra tre giorni Michele? Pensa a te. Cosa faccio? Mi sto facendo la tinta ai capelli, quindi sono in pose, sto aspettando che finisca il tempo di posa e dopo mi vado a sciacquare. Faccio la doccia. E devo fare la valice perché domani riparto per Milano. Ciao! Aiuto! Non riesco a leggere! Ma io vi saluto tutti, certo! Ciao Sara, ciao Ginevra, ciao Yasmin! Sei andata a vedere dei cani stupendi, devi prendere un cagnolino, ma che bello! Ciao! Ho bisogno di Alberico. Ma dai, io penso che Alberico non lo conosco nemmeno di persona, perciò non so nemmeno com'è. Ciao Teresa! Come stai piangendo? Perché? Ciao tesoro! Sì, ma tu non sei la rompipalle di Twitter, ciao! Mi manca da morire, ma stai tranquilla, lo rivedi. Ciao! E vabbè, e basta, domani torno a Milano. Perciò se mi ribeccate, di solito voi mi beccate sempre in metro o alla stazione o in un sacco di posti, se mi beccate salutatemi, mi raccomando. E certo che puoi limonare Michele, limonano tantissimo, limonano tantissimo. E a domani vedrete sul mio canale, sul canale di Michele, la collaborazione che abbiamo fatto assieme qualche giorno fa. Perciò aspettatevi il video collaborazione domani e non vi posso dire niente, sono dei video veramente di un alto spessore intellettuale. Ma penso che possiate apprezzarli, ecco. Ma anch'io vi voglio incontrare tantissimo! Ma io non so di dove siete, come faccio? Vi dico già però che c'è un progetto in corso e a dicembre io sarò sicuramente a Roma. Una giornata sarò sicuramente a Roma, che vi dirò e potrete stare con me anche tutta la giornata, volendo. E non vi posso dire ancora niente, però è sicura sta cosa, quindi sono stra sicura. In più ricordatevi che se venite a vedere X Factor, quindi se magari avrete biglietti per X Factor o venite, io sarò tutte le puntate di X Factor, perché ovviamente sarò nel backstage a commentare e ad intervistare tutti i ragazzi. Perciò se mi vedete, se volete venire a X Factor e venite a X Factor, insomma avete biglietti così, salutatemi perché mi beccate sicuramente nel pubblico. E basta. Ma certo, ma te portagli quello che ti pare, fai cosa, fai quello che vuoi. Ciao Teresa! Bene, allora alla finale sarà più difficile ragazzi, la finale è il forum di assago, cioè una quantità di persone impressionanti. No, non vi posso spoilerare niente. Perché, cioè sappiate che però sono due challenge sul mio canale, su quello di Michele, sono due challenge diverse, però sempre challenge sono. E niente, dovete solo aspettare domani, ok? Certo, vi saluto Fedes, vi saluto tutti. Bah, Martina, ciao! Ciao Melissa! Ciao, ciao, ciao! Basta ragazzi, vado a sciacquarmi, perché finalmente ho fatto la tinta, e finalmente ho i capelli decenti. Ah, i live di X Factor iniziano il 22 ottobre, quindi giovedì 22 ottobre, iniziamo con i live. Se avrete domande, cose del genere, mandatemi tutto quanto. Mandatemi tutto quanto, vi faccio tutte le domande che volete a tutti i protagonisti. Basta, vado a sciacquarmi. Vi mando un bacione enorme. Grazie mille sempre della compagnia, e ci vediamo domani, ok? Vi mando un bacione enorme. Ciao a tutti, buonanotte! Ci vediamo prestissimo nella prossima live. Ciao!